E stavo a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Dopo circa due settimane che non ho portato video Sto facendo questo tipo di vlog un po' alla vecchia maniera Però stavolta ho fatto molto molto meglio Con delle luci impostate decisamente meglio Prima non c'erano luci Diciamo che utilizzavo una bajou per illuminarmi un po' il volto Stavolta sto utilizzando delle luci professionali L'ultima volta che ho fatto questo tipo di vlog Avevo la Canon 700D Adesso sto utilizzando la Sony Che è una qualità nettamente superiore Ho comprato uno schermo per la camera La 700D aveva lo schermo che si ribaltava Invece questa di qua no E quindi mi sto vedendo qui a destra Per vedere un po' se sono messo a fuoco oppure no Comunque ragazzi adesso sono ritornato a fare i video Quindi da oggi in avanti ripartiranno i miei video Comunque scusate per l'assenza Però ho dovuto fare due settimane di lavoro E poi alla fine mi sono preso una settimana Settimana e mezzo di diciamo ferie Di non fare nulla Quindi sono andato un po' a mare Mi sono riposato Più che divertito Comunque qui alle mie spalle ho il mio computer Vediamo se mi metto a fuoco Ok Era da molto tempo che non facevo tipo tipo di video E comunque mi piacerebbe portarli un po' di più Quindi se avete delle domande Se avete degli argomenti di cui parlare Potete scriverli qui sotto nei commenti Comunque niente ragazzi Adesso come sono Come sono illuminato La mia faccia è ben illuminata In quadratura molto stretta Comunque mi piace Ho voluto provare tipo sta Sta in quadratura Vediamo un po' Al posto di utilizzare il solito grand angolo S'utilizzando il 35 mm F1.8 Come potete vedere Qui tutto sfogato E niente ragazzi Questo video era per informarvi Un po' Che sono vivo Comunque ve lo scelto l'ultimo video In cui spiegavo Perché non ci sarebbero stati più video Durante tipo Il mese di agosto E niente ragazzi Comunque ripartiranno I soliti video Non so Volevo portare qualche contenuto Un po' diverso Del solito Minecraft Ma vediamo se mi riesce Comunque fatemi sapere Se vi piace questo tipo di inquadratura Questo tipo di video E niente ragazzi Qui si muore da caldo E vi lascio E niente ragazzi Quindi per oggi è tutto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao